a ok bella ragazzi siamo ritornati qui con un nuovo episodio di in main caratticiamo su mappa better to get back e qua con me c'è giacquars ciao ragazzi come al solito si trova tutti iii andiamo avanti ragazzi andiamo avanti eravamo rimasti qui aspetta ma c'è un altro aspetta adeguere le st si tocca a correre ok 3 2 2 1 corre ok qua va bene devastiamo l'alano dc abbiamo perso l'accendino e abbiamo perso l'accendino prima dunque o che si sono a parte le porte bisognava bisogna passare di quando vuoi l'acqua potevano farlo di due cubetti di due cubetti così non ci si faceva male no ok io l'ho fatta al primo già ora da primo feigni lo assisto intanto che fa questa bellissima cosa primo feigni ha fatto conto per il nottecato scusa 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 non ti chiami la prima giusta qua c'è stato un piccolo feigni che mi sono dimenticato di riparare a web ok si guarda come dice un cli per son cli per ok ok allora che bisogna fare qua qua c'è dell'acqua che scende aspera vai di là prova andare di là c'è un'altra stanza di là ah ho visto cosa ok quella lì vai si vai ok sali sulla pressure plate l'altra giuola si scende l'acqua dove va l'acqua ah è scesa anche di là qua esce inizia perché non scende dovrebbe spegnere la lava alta alta aspetta nuovo aspetta di là ci sono i circuiti non si è spento aspetta come qua salta su quattro salta su quattro stelline lì ci sono dei circuiti alta e aspetta faccio e faccio e tranquillo guardare qua c'è ci sono due cubi e aspetta vai fai lo scambio con l'acqua acqua bella si infatti avevamo avevo ragione aveva anche da mi pensato eh vai di là e se cambia una fase perfetto ah c'è il suo mento c'è un altro peso c'è un altro peso picchi dove bravo mi sa che devi salire anche te però si infatti le porte non si sono aperte sali di quanto sali sono anche te non ho mai sopra la testa e ma c'è anche un'altra di là sim tu vai si voglia tanto la lava è andata via è ok ma la porta sono più di lavoro sali su un provo cambiare l'acqua devi salire anche te ho preso poi la strada che ho fatto io si ma si toglie questo no no non si toglie no no o no quindi c'è un'altra cosa aspetta la mia mia o se c'è qualche cosa lì possiamo mettere min aspetto ah giusto 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 passa su d'acqua per moleste di buono ok sali da qua ok ecco mai nell'altro ok si si sono aperte ho sentito il rumore che c'è attività m c'è ok andiamo verso l'infinito e non sono un po' non metto 30 per cento ok ok l'infinito e oltre no 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 io le odio io ti dico che le odio no ok ok non spingermi eh a no no crepa dai dai ce la faccio no 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 come chiudevole fatto quando in questo entri io carica di carica di carica di crepa nono non ci vuole no io sto qua no io odio io odio ok provo ora ciao no basta 360 ciao ciao no se l'ho fatta no no non lo fai togliamo tutte le scale basta 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 dai sali ti butto giù le scale le prese metti le scale gioco ok scusa 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 non è la mia intenzione mi scusi basta ok maggiori ciao 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 ma ragazzi vedere quanto è nato riscritto e lo so sappiamo che gioco mi vuole bene no 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 aspetti ci sono due persone bene cosa fa questo non lo so proviene di quota ci sono ecco cosa fa è ok ma dove manca e li e gli esperti sa che bisogna farlo partire provi di qua forse ne ha preso più mai entro ok ok che è mai carter porti perché hai messo un cubo non ho messo io non ho messo io non ho messo io non ho messo io spacca il cubo gioco uo tolino come faccio co ancora mai nude ok ok rs i metti metto anche un fiorelli no ok ok anche molti cacques rs c'è partito il main cart e' partita allora ci sono altri due di queste mi no in i quali spazio aspetta ieri ora se è sceso con si ma viene qua non funziona bisogna fare arrivare alla fine il main cart m non spero ok ok ho capito scusa scogliato guarda guardate allora tu schiaccia i primi allora pronti tu schiacciane tu schiaccia al 2 e 3 pronti aspetta un attimo ti dico io pronti partenza via no no un'altra volta schiacci io ecco no ma scusami perchè che fa tutto il br allora tu schiaccia l'uno 1 3 2 1 3 2 vai vai allora va tu vai 3 pronti partenza via allora 1 2 scusate e perchè no vado a farlo non sento niente io 1 3 2 1 3 2 scusate 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 non sono ok dai non ho schiacciato niente allora tu schiaccia l'uno tu schiaccia l'uno tu schiaccia l'uno no 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 subito maus di merda no 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 ma la mia vita di quello che 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 è quindi alt tu schiaccia l'uno allora schiaccia l'uno e due assieme allora tu schiaccia l'uno allora 3 aspetta allora 3 3 3 schiaccia l'uno e due assieme 1 2 3 non lo schiacciato merda scambi 3 fermo tu schiaccia l'uno e basta pronti non lo schiaccia l'uno e due assieme aspetta allora 3 altre schiaccia l'uno 1 2 3 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 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 8 9 10 9 9 9 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 11 11 11 12 ok ragazzi io non faccio niente di male alla società alla società dei pistoni lega veramente tanto lega veramente tanto eh cosa ti ho detto io game mode jouers nc1 guarda non mi mette dei game mode è un attimo che faccio nientanto ok sto ma non mi sto ma non mi ma che si dice ma non mettendo il sistema tu non preoccuparti no 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 scherzo il il cosa è un attimo sto ma non mettendo i sistemi ecco mi ha fatto uscire è un attimo che ora dovrebbe finire di laggare che ci faccio di nuovo qua ho detto lagga ok ora dovrebbe smettila di laggare vieni ok scusate per questo piccolo ma ma dove vieni qui da guarda ok togliamo la game mode ok andiamo game mode ok 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 scusate come se ci sta ok scommetti che ci sono altre scale veramente ci spero veramente no 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 non ci sono altre scale strano ok siamo arrivati a chi chi cosa ok dovrebbe essere la dieci 9 ok ok no ma allora forse della 4 aspetta ok facciamo anche questo e poi no facciamo anche dieci e poi stoppiamo alto questo qua adesso ragazzi perché non ho mai giocato questa ma poi ho visto alcuni tutorial cd scendi scendi giù dopo l'introduzione del famosissimo sprint eh questa mappa è facilmente passabile anche senza ah ma lol già guarda ti consiglio di non provare se no feyli temi la morte ok sono aperte già cioè è molto semplice solo che ehi giù ah giù le mani marrono ok voglio la coccole si ok ok dormiamo siamo alla 10 siamo appunto di domanda aspetta aspetta si muovono i pistoni a allora scusate è il numero 10 è molto grande per il mante a scrivere ok primi aspetta ok ok dai scendi ti chi idiota cosa ha scritto da quando no che 10 ci fermiamo gli amanti come abbiamo fatto le scorse volte ma facciamo giusto cosa la facciamo no questa sì certo che facciamo anche queste poi ok questo non ho mai giocato per presto almeno secondo numero terzo numero altro 1 2 3 4 5 aspetta allora schiaccia il primo numero qua sopra m vini costo però almeno si capisce meglio almeno in quadri arrivo arrivo un attimo ok allora dove c'è allora che numero è quale che non è quello che per la terza 3 3 3 3 3 poi che numero è 2 ok che numero è aspetta 8 ok ok sono aperti a scendere molto semplice direi ok ok ah ho capito quale dice dove dice il primo numero e il secondo numero e il terzo numero queste di dimostrano che numero devi schiacciare dire ok mi sa che non c'è di ancora arrivato ci sono arrivato ma tu non hai capito ok sta mi spiegando chiederti motos ok bella ragazzi no 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 voglio il mio spazio no 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 ma come fatto ok 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 vieni qui già ora senza far vedere niente ok ok niente anticipazioni ragazzi questo è per voi ok 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 sapete cosa vi dico io vi faccio uno dei miei dei miei stick stilosi ok già guarda stessa sa che di cosa sto parlando ok ok lupo fantastico ok dormiamo ragazzi alla prossima puntata con il led lampeggianti e la cacca che ormai non c'è più alla prossima puntata ciao ragazzi ciao ragazzi